Cinque anni, tanto è trascorso da quando un grave danno alla condotta fognaria di via Domenico Ceccarossi all'Infernetto ha provocato seri problemi alla sede stradale. Problemi che si sono via via moltiplicati, tanto da comportare la chiusura al traffico. Con una richiesta di accesso agli atti, annuncia il consigliere capitolino Giovanni Zannola e con una lettera indirizzata alla presidente del decimo municipio, il comandante della polizia locale del decimo gruppo, intendo portare alla luce una situazione ormai insostenibile. Nel 2016 la CEA suggerì la chiusura della strada, ma l'incuria ha provocato un ulteriore aggravamento della situazione. Chiediamo un sollecito intervento dell'amministrazione per risolvere un problema che da cinque anni crea disagi ai residenti della zona, conclude Zannola. Anche i transennamenti, ormai deteriorati, aggiunge Leonardo Di Matteo della segreteria PD di Roma, sono spesso oggetto di atti vandalici e vengono persino rimossi da ignoti, così da compromettere seriamente l'incolumità della cittadinanza.